La deputata Anisci, prego. Grazie Presidente. Sono molto scossa e penso che lo sarete tutti per quello che è successo qualche giorno fa all'Imbadi in provincia di Vibo Valencia, in Calabria, dove un'automobile è saltata in aria e ha provocato l'uccisione di Matto Vinci e del grave ferimento del padre di Vinci. Ora, in questi momenti sta indagando la procura antimafia di Indica Tanzaro, da figlia del Sud, voglio esprimere il mio cordoglio alla famiglia, alla comunità, questi accadimenti sono sempre molto difficili da decifrare, e lasciamo questo compito alla magistratura, ma le istituzioni devono dare una risposta solida a questi accadimenti. Io auspico anche di poter dare il mio contributo nella futura commissione antimafia, che si deve anche porre degli obiettivi più ambiziosi, più ambiziosi perché non si possono più lasciare soli questi territori. Sappiamo bene che l'avanzata delle mafie, dell'andrangheta, è anche dovuta all'assenza dello Stato, quindi ad una rete solida di politiche sociali, di investimenti. Sappiamo bene l'origine, le cause e anche come si sconfiggono questi cancri della comunità, di cui comunque siamo testimoni e mi ha colpito la testimonianza lucida e dolorosa della mamma di Vinci, dove parla di soprusi durati anni, e qui saranno sempre le indagini a fare luci, però è una condizione generale di tante persone a sud, di sofferenza, di soprusi continui, perché la cappa dell'andrangheta è fortissima, è una cappa culturale e all'emancipazione da queste dinamiche terribili deve compartecipare l'Italia tutta e in primis le istituzioni e anche noi parlamentari. Grazie Presidente. Grazie a lei collega, ha chiesto di intervenire il collega Fattuzzo nella facoltà.